Il prossimo incontro fra Danilo Dilda, coordinatore della sezione Ona Ollus di Cremona, e il nuovo assessore all'ambiente, Simona Pasquali, non riserverà sorprese. La battaglia contro l'amianto non conoscerà tregua né ripensamenti nel passaggio di consegne fra l'una e l'altra amministrazione Galimberti, dopo anni di ordinanze. Lo dimostrano i lavori di risanamento presso la Scuola Media Virgilio di Via Trebbia, dove sarà rimosso il pavimento in vinilamianto che ancora permane nella palestra. Saranno spesi complessivamente 120.000 euro utilizzando un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico. Più difficili gli interventi sui siti di proprietà privata, come in via San Machini, dove per anni una residente ha dovuto convivere con il tetto in eternit degradato di un garage di una vicina attività produttiva. L'imprenditore ha manifestato la disponibilità ad iniziare la bonifica entro fine mese, per evitare il rischio che in caso contrario scatti l'azione penale. In via Bissolati l'assedio ai siti contaminati dalla fibra killer continua. Il capannone interno all'ex caserma Manfredini è stato bonificato e anche l'edificio all'angolo tra via delle Foppe e via Bissolati è stato liberato dalla copertura in eternit, che giaceva, per quanto fatiscente, sopra un tetto interno non visibile dalla strada, ma soltanto dagli appartamenti al secondo piano, dei quali erano partite segnalazioni corredate da fotografie all'Ona Onlus. L'osservatorio nazionale a Mianto, va ricordato, a Cremona è riuscito ad imprimere un'accelerazione alla guerra contro l'Eternit, che ancora si trova in circa 6.000 siti del territorio provinciale, secondo il censimento dell'ATS. In via Rosario la bonifica ha ripulito il magazzino Arvedi in cattive condizioni, mentre anche il tubificio prosegue il risanamento dopo le richieste dei cittadini e dell'Ona Onlus. È stato bonificato in via Mantova inoltre un capannone agricolo. La pressione dell'Ona, infatti, si rivolge anche alle aziende agricole. Secondo le stime, gli anni più difficili per il numero di casi di malattia correlati all'esposizione da Mianto possono essere i prossimi imminenti a causa del lungo periodo di incubazione.